Mario Orsi Bianchi ha presentato questo film. La voglia di costruire, di produrre, di innovare, di lavorare per una società migliore. Il coraggio di guardare lontano, di confrontarsi, il gusto di superarsi. Questo è il nostro gruppo, una lunga, tenace affermazione di buona volontà. Ai milioni di italiani di buona volontà, da tutti noi, per tutti voi, un caldo augurio di serenità. Grazie.